Due nuovi appartamenti e altri tre in arrivo per far fronte all'emergenza abitativa a Faenza dopo l'alluvione. Caritas ha oggi inaugurato la prima abitazione messa a disposizione dei faentini che ancora non sono riusciti a rientrare nella propria casa. L'appartamento nei locali della parrocchia di San Savino potrà essere messo a disposizione la prossima settimana ed è stato pensato per un nucleo di 3-4 persone. Stessa capienza per il secondo appartamento nella parrocchia di San Ippolito che potrà essere a disposizione a breve. Tempi più lunghi invece per tre appartamenti a San Domenico per i quali manca ancora il via libera da parte della soprintendenza. Tutti e tre gli interventi sono stati possibili grazie alla donazione di banco BPM a Caritas Emilia Romagna. Dopo l'alluvione romagnola il gruppo bancario ha donato oltre un milione e trecento mila euro che Caritas ha suddiviso nei vari territori. Vogliamo come sempre fare la nostra parte, porre dei segni di speranza e questi appartamenti, questi luoghi che saranno abitati subito sono proprio il segno di una speranza che vogliamo annunciare e testimoniare. Da quanto vissuto l'anno scorso credo che sia importante anche ricominciare riaffermando il valore della solidarietà, della fraternità mi verrebbe da dire, cioè mettendo a disposizione quanto si ha per chi non ha. Questo superando tante difficoltà anche burocratiche superando anche tanti vincoli che ci sono ma facendo vedere quell'altra parte di Italia, di paese che invece quando si mette insieme ci si unisce così come nel caso di questo rifacimento di questo appartamento ci dice che si può fare appunto raccontare e testimoniare che l'unità anche tra diverse parti della società può portare buoni frutti. È passato un anno, ci sembrava giusto dare conto anche a chi poi ha dato questo contributo che è stato rappresentato e messo insieme sia dai dipendenti, dai colleghi di Banco BPM ma anche e soprattutto dai clienti. Quando è partito, quando è successa questa tragedia ci siamo attivati immediatamente, ci siamo appoggiati a Caritas Emilia Romagna per poi essere loro i finalizzatori. Oggi presentiamo sulla diocese di Faenza la ristrutturazione di tre immobili che sono destinati ad alluvionati ma vista la cifra raccolta naturalmente anche le altre diocesi della Romagna sono beneficiarie di questo contributo significativo. È fondamentale in questo caso specifico l'apporto e il contributo di BPM e così come è stato in tanti altri luoghi, il fattivo concreto, il contributo di altri istituti bancari, di altri pezzi di società che hanno scelto Caritas per poter veicolare le loro risorse che hanno scelto di mettere a disposizione. Gli appartamenti di proprietà delle parrocchie rimarranno a disposizione di Caritas per sette anni. I nuclei colpiti dall'alluvione saranno ospitati gratuitamente, dovranno unicamente farsi carico delle utenze. Grazie ai fondi donati da Banco BPM Caritas ha messo in atto anche una serie di iniziative a Villanova di Bagnachevallo, Boncellino, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo, Reda e in altre parrocchie di Faenza.